Il caso non obbedisce a leggi, e se anche obbedisse, noi non riconosciamo. Fogli bianchi da colorare, fare coriandoli di storie scritte male, cartoline disperse volando come sono arrivate. Lettere da buttare, guaderni a righe che fanno risere, acquadretti che fanno pensare, diari di giorni dimenticati, mesi sempre uguali. Coriandoli, storie a pezzetti, riciclando un pensiero a colori, farne. Coriandoli, coriandoli, farfalle di carta, forse imbrogliandoli qualcosa di meglio verrà. Fogli bianchi da colorare, o colorati da ricolorare, storie da inventare, cartoline in viaggio. Lettere da riciclare, guaderni a righe che fanno ridere, e acquadretti da spezzettare. Diari di attimi da baciare, di attimi da baciare, di un'eternità da amare. Coriandoli, storie a pezzetti, riciclando un pensiero a colori, farne. Coriandoli, coriandoli, farfalle di carta, forse imbrogliandole qualcosa di nuovo verrà. Coriandoli, storie a pezzetti, riciclando un pensiero a colori, farfalle di carta, forse imbrogliandole qualcosa di nuovo verrà.